L'audio di questo video è matrimonato in 8D. Per un'esperienza completa di ascoltamento, è consigliato di portare i capo. Joshua McFarrow Movie La parola Tullo non ha un significato chiaro o specifico in italiano. Potrebbe essere un errore di battitura o un'abbreviazione informale di una parola più lunga. Se hai ulteriori dettagli o contesto, posso cercare di aiutarti a comprendere meglio cose intende. www.microsoft.com Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per te ancora più spazio di archiviazione in cloud. Se non sei in possesso di un cervello cibernetico, passa in uno dei nostri store. Per chi lascia il vecchio encefalo, quello nuovo è gratis. Per tutti. Per te ancora più spazio di un cervello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.